Noi pensiamo ormai di ritenerci, anche cambiando nome, siamo un club storico a tutti gli effetti, militiamo in questo splendido campionato da tanti anni, lo abbiamo fatto a ottimi livelli, abbiamo inseguito tanto il successo che poi è quello che è arrivato allo scorso maggio. Ora arriva il bello perché dobbiamo difenderlo, quindi partiamo per la prima volta da campioni in carica e siamo intenzionati a difenderlo fino all'ultima giornata. Abbiamo fatto una buona partenza oggi, primo tempo un po' non benissimo per quel che riguarda, diciamo che eravamo rimasti in modalità vacanza, poi siamo entrati in partita, abbiamo fatto uscire quelli che sono i nostri valori, la squadra ha dominato per larghi tratti, insomma, dopo lo svantaggio iniziale, ci siamo, ci siamo, vogliamo esserci fino in fondo e dopo la vittoria il difficile viene adesso, vogliamo confermarci, questo è sicuro.